Siamo qui al Ciliegie Stadium a Chiaiano, siamo con il Bucalo Team, con Urbano a porta, i due centrali Bucchiniani e Aldo Origlia, Terzini, Giuseppe De Luca e Francesco Origlia. A centrocampo abbiamo Pisano, Verrazzo, Iorio e Meola, in attacco Bucalo e Milucci. Dall'altra parte il Guzzardi Team con un 4-4-2, con difensori centrali Berlingiri e Davide Coniglio, Terzino, Destro, Argento, Sinistro, Schiano, Mediane, Cupersito, Toscano, Assentato, Esterno di Sinistra, Canonico di Destra, Guzzardi trequartista e Gallo unica punta. Si parte con le azioni, con ora il Guzzardi Team, proprio Guzzardi che allarga per Schiano, ma c'è De Luca, De Luca che la passa a Bucalo, che tira debole. La parata di Formicola, mentre qui Gallo si prepara a battere il calcio di punizione, un po' debole il tiro, che viene rimpallato da Auriglia. Ora c'è la palla lunga, Assentato, toccato da Auriglia e l'arbitro fischia, Calcio di Rigore. Quindi Rigore per il Guzzardi Team, e alla battuta andrà lo stesso Assentato. Qui sguardo fisso al portiere Urbano, parte col destro in crocia, goal, realizzazione perfetta e si va al vantaggio del Guzzardi Team. Ora palla per Bucalo, cercano di rispondere gli avversari, Bucalo salta Davide Coniglio, un'altra finta, rientra ancora e poi, e poi qui Coniglio, falcia Bucalo. E qui brutto gesto da parte del terzino, brutto intervento sicuramente, calcio di punizione, parte Bucalo, palla dentro, meola di testa, ma è dibole. Purtroppo non è riuscito a imprimere forza la sua frustata con la testa, mentre qui dall'altra parte, Canonico recupera palla, allarga a destra per Assentato, vede l'inserimento di Guzzardi che con un'ottima finta, va sulla fascia destra e riesce a incrociare perfettamente col destro, si va sul 2-0, goal del capitano. Bel goal, Ele. Ora c'è Iorio che lancia meola, meola ha spazio per il tiro, prova il destro, però prata di formicola. E qui poteva fare di più l'attaccante, ancora meola che si allarga sulla fascia destra, ottimo la finta ad andare via a Toscana, pallone in mezzo dove c'è Bucalo che non riesce a buttarla dentro. E ora dall'altra parte abbiamo Canonico che supera Bucchiniani, Canonico prova il tiro di mezza punta che poi gira. Mentre qui abbiamo l'infortunio da parte di Capitano Guzzardi, probabile problema ai flessori. Eh sì sicuramente Ricky, però proprio lui poco dopo batte una punizione alta, possiamo notare il fastidio dietro alla coscia. Qui meola prova a mettere il palmo in mezzo per Iorio che ha un tiro di alleggerimento oserei dire. Ora per Razzo, ancora lui, Guzzardi la allunga per Gallo, Gallo vede Canonico sulla sinistra, gran palla, Canonico a spazio sulla fascia, Canonico contro Urbano e c'è la rete, il 3-0 di Canonico. Canonico come Gervigno, imprendibile, la fascia è sua, imprendibile. Qui Berlingieri allarga sulla fascia sinistra per Schiano che va via in ottima maniera, qui vede l'inserimento di Gallo, pallone perfetto per l'attaccante, ancora Gallo avanza col mancino e qui papera di Urbano e si va sul 4-0. Gran palla qui di Schiano, ora Meola, Meola, da una palla stupenda per Milucci, Milucci c'è il gol del 4-1. Grande azione del Bucalo Team, grande intesa di Tercano. E qui Mr. Guzzardi, spiega a tutti il mio tempo. Si è fissato che lui è l'allenatore e deve un po'... Tu stavi segnando un gol, peccato. Ma c'è una bella paloma di qua. Lati si è fatto poi lui, no, lui, il portiere è lato. Però quella imbucata sulla fascia sinistra per Milucci è stata... Eh, ma chi è Milucci? Milucci è un ragazzo, Milucci, Milucci. Lo conosco, però sai, con le magliette, con questo giallo. No, no. Palla del tuo gol? No, no, ma ti conosco. Hai amato da Palla Rupoli? Un'uomo partita Sky? No, è che non riesco a individuarvi sul campo, allora dico la squadra dei gialli e basta. E' stato emozionante di segnare il primo gol alle cilegge Stadium. A chi l'ha segnato? Ah, tu l'hai segnato, bravo. Ma io l'ho ripreso. L'ho assist di... L'ho ripreso. Del grande Simone. L'ho ripreso, allora lei ha segnato un gol. Ci mette la buona volontà. Non hai do io. Eh, ho detto, cercate di organizzarvi. E siamo qui, ora, palla per Gallo. Gallo assentato, assentato, cerca di girarsi. Il tacco, ma Auriglia fa una scivolata perfetta. E' difficile vedere. Qui dall'altra parte, pallone per Bucalo, in area di rigore. Riesce a smarcarsi, va via sia a Schiano che ad Argento, però conclude male. E qui il rinvio brutto di Formicola. Poi Bucalo cerca di sorprenderlo. Poi il gialli qui. Per pochissimo. Ancora Bucalo avanza sulla sinistra, va via a Coniglio, va via anche ad Argento. Qui gioco di gambe, pallone indietro. La palla, infine, arriva a Meola che manda il pallone fuori dallo stadio. E ora Guzzardi, Guzzardi con Schiano, non si capiscono. Ancora Guzzardi, la butta dentro. Gallo si gira. E per poco non insacca. Qui dall'altra parte, canonico, avanza sempre sulla fascia sinistra. Prova il tiro. E qui il palo. Incredibile la sfortuna per il 7. Ora calcio d'angolo dall'altro lato, Bucalo, c'è il gol di Bucalo di testa. E qui la difesa del Guzzardi se lo perde. Si apre un po'. Qui il canonico con l'esterno destro, prova a metterlo in mezzo. Pallone arriva a Cupersito che ci prova col tiro. E qui Urbano sta per fare un paperule, però poi la riprende. E qui parte Schiano, punizione da lontanissimo. Palla alta, Urbano fa la papera. E c'è il 5-2, gol di Schiano. Non se l'aspettava nessuno questo gol. E qui l'esultanza del giocatore. Algerino. Qui Guzzardi batte il calcio d'angolo. Pallone rilanciato male da Auriglia. Palla ancora arriva a Schiano che è col mancino. Sigla la sua personale doppietta all'ottantunesimo. Si va sul 7-2. E povero Bucchiniani, il portiere qui. Non poteva fare niente. E ora ancora Guzzardi. Palla lunga. Canonico. Canonico solo contro Bucchiniani. Attende Gallo. Poi non si capiscono. Il verrazzo chiude tutto. E' davvero occasione divorata per il Guzzardi Tim. E si, c'è un errore. Palla ancora Gallo che prova a smarcarsi Auriglia. E qui. E qui c'è un dubbio signori. Azione dubbia. Purtroppo il VAR era indisponibile. E ora Auriglia rinvia male. Assentato la lancia in profondità verso Canonico. Che è solo contro Bucchiniani. La passa per Gallo a porta vuota. Che non può sbagliare. E c'è qui il 7-2 all'ottantasettesimo minuto. Va detto che c'è stato un altro gol. Non ripreso a causa di problemi tecnici. E quindi quel di Canonico. Ma non si può fare altrimenti.